Dio una mezza anteprima perché ne so veramente poco, pare che si stia doppiando un ennesimo film di Gundam, non so nient'altro. Ah, le butti così le bombe tu? Eh sì, le butti così le bombe. Non guardate me. Secondo me, no no, che cosa? Non guardate me? No no, lo so, lo so, lo so. Mi sa che non ci vediamo niente questa volta. No, non ci vedete niente, io secondo me sospetto che possa andare al cinema, non so perché ho questo sospetto, ma veramente non so nient'altro. Mi hanno riferito che lo stanno doppiando. Se vuoi andare al cinema avrai qualche perplessità. Hai ragione, hai ragione. Non sono legato al momento, intendi. Non sono legato al momento, insomma. Hai ragione. Allora diciamo che forse la destinazione originale era il cinema e forse in questi tempi... È più probabile, sì. Eh, però, ecco, insomma, vi do questi indizi se possono essere utili. Eh, dovremmo scavare... Eh, dovete indagare, sì. E chi sta facendo vota. Eh, chi fa chi.